Valerio Marinelli del Partito Democratico, mi schiero per il no perché credo che questa riforma costituzionale non sia adeguata, non abbia colto il significato della crisi della rappresentanza e spinga invece per aumentare la stabilità di governo. Io credo che i cittadini italiani e la democrazia italiana meriti qualcosa di diverso, meriti che vengano premiate le regioni, i comuni, gli antilocali, credo che venga risolta il problema democratico sul piano della rappresentanza e non sul piano del rafforzamento del potere esecutivo. Credo anche che questa Costituzione combinata con la legge elettorale non premi assolutamente la visione dei padri costituenti.